Buonasera e benvenuti in questo nuovo video. In questo video faccio gli auguri di buon compleanno a Giovanni Donnarumma, detto Giovi360, auguri fa nove anni, lui è contentissimo, guardatelo, è contentissimo perché ha avuto tanti auguri di stamattina, è contento, nove anni sono... Vi hanno taccato su Facebook? Eh, sono molto contento perché il mio amico ha fatto nove anni. Salve su Facebook Giovanni Donnarumma, su Instagram Giovanni.com Comunque mettete un like al video e iscrivetevi al canale, oggi faremo un video speciale su di lui e io leggerò una lettera che ho fatto per lui perché sto preparando una lettera per lui. Comunque mettete un like al video e iscrivetevi al canale. Auguri Giovi!